Stiamo andando all'Aflam, Bicca, Pan e Nova, perché ci saranno le Olimpiadi Invernali. Io sarò in squadra con Bam e lui sarà in squadra con Nova. La competizione abbia inizio. Siamo nel circolo polare Articolo e stiamo congelando, quindi faremo una competizione per vedere chi riesce a bere più sciolta di cera calda. Siamo in prima di noi. Salute. Non male, ce l'ha spuntata tutta. Non te la puoi dire. Mamma mia che schifo. Va bene, va bene. Salute. Hai spuntato di nuovo. Via. Molto caldo. Guarda che perdi c'è il vomiti. Perdi, eh? Stai per perdere. Perderai. A voi. Canta, 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 canta. C'è parola che posso esprimere quello che sento. Dì, no. Mi sa che abbiamo vinto, perché lui ti è stato conosciato in più. L'ho preso in faccia. Dopodiché non avrei dovuto farlo perché vi ho fatto vincere. Wow, ecco come ti fa. Abbiamo vinto. Abbraccio di squadra. A f***lo, ragazzi. Non mi farò mai più questi ciottini. Ma c'è l'inferno. Abbraccio di squadra. Ciao. Ciao. Pronto? Ciao, Yarpi. Sono HP. Ho un piccolo problema perché ho preso una panchina e sono rimasto bloccato qui. Sì, sono qui da un'ora. Non è passata nemmeno una macchina. Mi puoi venire a prendere. Non rimani lì. Cerca di sopravvivere. Io ti chiamo e ti veniamo a prendere. Me lo prometti? Ok. Ciao. Ciao. Ora smifferiamo questo latte di renna. Sei contento, amico? Adesso vedremo chi riesce a bere più il latte di renna con il naso. Chi vincerà, secondo voi? Non lo so. Che domande? La nostra squadra. Questa è una passeggiatina nel parco. Iniziamo. Posso faremmeno il primo tentativo? Ok, comincia pure tu. Ecco fatto. Questa l'ho già vinta, amico. Giù le mani. Ora lo finisco. Che tre le hai fatta fare? Dove ha finito? Non lo so. Sto cercando di scoprirlo. Voglio tenermelo dentro perché voglio provare qualcosa. Continua così, Nova. Il suono c'è come un aspiravolvere. Ti risucchia ogni cosa. Questa la devo vincere. Aresti meglio a sbrigarti. Ecco fatto, te l'avevo detto. Vai avanti così, Nova. Questa la dobbiamo vincere. Ci serve questa vittoria. Così non vale. No, 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 no. Ora mi sento meglio. Sei qui, ma che non sto dentro.